ciao fragoline seconda parte dei prodotti finiti se non avete visto la prima parte andatela a vedere prima di iniziare questo video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciare un like un commentino qua sotto e se volete seguirmi su instagram vi aspetto anche lì iniziamo perché sono tanti prodotti come vi avevo già detto vi faccio vedere allora iniziamo da questo che mi sono trovata bene solo che non c'è più perché costava un euro lo prendevo sempre in un negozio dove c'era la roba che costava tutto un euro adesso non c'è più perché l'hanno chiuso e queste cose qua non riesco più a trovarle praticamente sono del non mi ricordo il nome come sempre che mettete sulle unghie e poi sono già decorate in poche parole però non mi viene il nome anche perché qua è in inglese e non mi ricordo come si chiamano comunque questi qua erano buoni e sono ottime per le unghie poi questo è bocciato è praticamente un contorno occhi del avril non mi sono trovata bene l'altra volta l'altra volta quando lo mettevo specialmente di sera mi trovavo gli occhi gonfi ma talmente gonfi che non so se è il prodotto che io sono allergica oppure il prodotto è fatto così comunque quando mettevo su questo prodotto sui contorno occhi alla sera poi iniziava a gonfiarmi tutto l'occhio sia cioè in teoria tutti e due gli occhi per cui per me è bocciato e ovviamente non lo ricompro anche se l'ho pagato un bel po' poi questo qui invece della Sephora mi sono trovata bene praticamente è fresh è uno struccante e strucca bene ha un buon odore un buon profumo ce l'ho ancora è buonissimo strucca bene ed è ottimo come prodotto questo qua è promosso poi questo qui è ottimo è promosso anche questo è della Neotro Robbers quello delle 48 ore è fatto diciamo ormai ha un odore buonissimo è quello rotondo comunque è ottimo per diciamo metterlo sotto le ascelle comunque è un buon prodotto è ottimo poi mi sono trovata bene anche con questo fondotinta preso su Amazon che cambia colore praticamente da bianco diventa quando lo mettete su nella vostra pelle diventa in poche parole lo stesso colore della vostra pelle questo qui è TLM ed è ottimo infatti ho preso un bel po' tre o quattro di questi ce li ho ancora li sto provando e sono ottimi per cui ha un fondotinta che idrata e secondo me anche buono non copre tanto ma è buono come fondotinta mi sono trovata bene anche con questo della Mercy Handy se si dice così che è questo dell'aloe vera questo qui ed è buono infatti io lo volevo ricomprare perché è buonissimo mi sono trovata bene poi ha un odore mamma mia un odore buonissimo ce ne fa impazzire io mi sono trovata bene non so quante volte l'ho detto ma è ottimo come prodotto è promosso poi questo qui di Too Faced della pesca che sa di pesca praticamente è ottimo perché l'odore è spettacolare infatti si sente ancora l'ho finito è buonissimo l'odore e costa un po' perché l'ho visto è buono anche se costa troppo comunque questo è promosso questo qua però io le cose che costano tanto sinceramente non le compro perché voglio risparmiare in poche parole poi questo così così questo qua è per le fiacche nella nella bocca si chiama Joom Claire e afta qualcosa del genere per le afte in bocca è fatto così è una via di mezzo cioè si funziona ma non lo so non è che mi mi piace così tanto come prodotto poi passiamo a questo che era illuminante questo illuminante della marionaudo mi sono trovata talmente bene che l'ho finito ed era ottimo per cui lo vorrei ricomprare perché è ottimo ed è come illuminante è bellissimo perché proprio si vede per cui è promosso poi questi sono quelli che vi ho fatto vedere nell'altro video che sono bocciati non mi sono trovata bene sono praticamente gloss cinesi che cambiano che appena li metti su li stacchi e hai le labbra diciamo colorate per cui sono bocciate non prendeteli poi ho trovato il migliore correttore questo qui della Maybelline New York questo qui il mio colore è 0 3 questo è 0 1 per cui però copre bene è un ottimo correttore io mi sto trovando bene e uso solo questo ormai per cui ve lo straconsiglio perché è ottimo vi copre tutto secondo me va bene infatti ne ho 2 questo è il mio il mio colore è 0 3 quello 0 1 era troppo infatti adesso ho preso 0 3 ne ho altri 2 e sì costano 6 euro però ne vale la pena perché sono buoni poi bocciato questo qui di correttore questo della conceller della zien preso a lidl non mi piace sia come colore perché non è il mio e non mi piace come correttore per cui è bocciato non lo voglio più comprare poi è bocciato anche questo gloss della bottega verde che l'ho rotto praticamente tutto non mi piace per cui è bocciato non dico altro non mi piace punto poi è promosso questo matitone nero di Nabla questo qua mi sono trovata bene è ottimo ha la punta così ed è buono adesso mi sto conciando tutta però è ottimo e lo vorrei ricomprare perché è un ottimo matitone nero con la punta grossa solo che il problema è che anche ha la punta un po' troppo grossa è un po' a metterlo un po' sottile per cui è ottimo ma secondo me ha la punta troppo grossa dovrei trovarne uno con la punta piccola poi è promosso anche questo però appena ho visto il prezzo alla sefora che costa 32 euro un po' più grande di questo sono rimasta perché ho detto no io 32 euro non ce li spendo per praticamente per le occhiaie cancella è una crema bianca praticamente adesso non so se ce n'è no è una crema bianca dove voi la mettete su e cambia colore della vostra pelle per cui è ottimo ma come prezzo è troppo è troppo per cui non lo compro per il fatto del prezzo però come prodotto è ottimo ed è promosso questo qua va bene per la colorazione è claire proprio chiaro però è buono però è buono bocciato questo qua che è un rossetto infatti non l'ho finito non mi piace non mi ricordo se è cinese comunque questo è bocciato poi questo qui è promosso del yes rocher quello delle 48 ore non stop che è una crema gel per la faccia è ottimo l'ho usato ed è buono come prodotto scusate se vado veloce ma i prodotti sono troppi poi i profumi della rocher sono buoni uno è di cour de nüt anche se le mie pronuncia non sono ottime che è questo e l'altro è plain solaire questi due sono promossi mi sono trovata bene con i profumi della rocher questi erano i campioncini però sono buoni poi questo qui che ormai si è seccato ma era ottimo è quello che metti intorno all'unghia perché così almeno quando metti lo smalto non esce diciamo lo smalto e poi con questo che è pelaf pelaf peluf non so come si dice lo staccate e il contorno praticamente non sporcate diciamo il fuori per cui è promosso però dopo un po' è seccato per cui però non è male come prodotto questo qui anche questo elimina lo smalto praticamente una penna correttrice smalto solo che di gloss non c'è più però mi sono trovata bene ed era buono come prodotto anche se ormai non c'è più passiamo ai campioncini allora stessa cosa campioncini profumo mi sono trovata bene anche con questi con questo qui no questo non mi piace invece con i profumi questo neanche vado un po' più veloce questi qui sono ottimi profumi della roccia infatti dentro c'era questo diciamo foglio che si sente ancora profumo dove poi dopo lo mettete su ed è buono poi è anche comodo se fanno prodottini diciamo così per provarli con fatti proprio così secondo me sono buoni questo non mi è piaciuto tanto è lo scrub per il corpo non mi è piaciuto per cui è bocciato poi questo qui così così alla camomilla non è che mi ha colpito molto questo è di Douglas così una via di mezzo non è che mi è piaciuto come sia come colore che come applicazione perché forse era poco non lo so non è che si vedeva un granché gloss questo qui di gloss ormai da un bel po' che ce li ho sono scaduti non li metto più e non mi sono piaciuti sia come colore che come quando cioè anche quando li mettevi su proprio cioè uno è questo e l'altro è fatto così due colori uno rosso e uno tipo un marroncino con i brillantini però non mi sono piaciuti per cui questi qua sono bocciati poi altri campioncini della Rocher che non mi sono piaciuti sono questi qua non vi dico il nome ma lo leggete voi perché io non sono tanto brava a leggere diciamo le pronunce per cui questi e per finire che sono ottimi come prodotti stilo quindi tutti sono questi praticamente della Yaki Candle che sono fantastici un odore spettacolare solo che sono scaduti e non riesco a farli sciogliere infatti uno l'ho fatto sciogliere ma non si scioglieva per cui questi sono da buttare però mi sono trovata bene costano tanto ma sono ottimi hanno un profumo buonissimo uno era questo poi ce n'era uno la vaniglia e lime e l'altro adesso li metto qui uno la mela l'altro ha i mirtilli che è quello che ho finito e l'altro ha la ciliegia ne vorrei comprare altri perché sono ottimi peccato che dopo un po' vanno male se non li usi però sono ottimi della Yaki Candle sono buonissimi ve li straconsiglio alleluia ce l'abbiamo fatta abbiamo finito tutti i prodotti per cui fatemi sapere se anche voi li avete provati come vi siete trovati io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina e seguirmi su Instagram che vi aspetto ciao e al prossimo video ciao